Sono venuta con l'Italia's Got Talent per dimostrare che comunque i limiti non esistono. Mi chiamo Francesca Cesarini, ho 16 anni. Sono nata senza la gamba destra e senza le due mani. Io rispetto agli altri mi sento una persona normale. Io non vedo differenze. Ognuno è se stesso. Non c'è motivo di esprimere una persona perché non è un'altra. Perché non saremo mai uguali. Un giorno mi sono svegliata, sono andata alla mamma e gli ho detto mamma voglio fare la pole dance. La pole a me dà un senso di libertà. Io sul palo so che posso fare ciò che voglio e mi dà tanta forza di volontà. Sei tranquilla? Sì. Sicura? Io sì. Io per niente. Oggi sono venuta qui con mia mamma e mia sorella e sono felice che loro stanno qua. Tutto quello che faccio è sempre, diciamo, una sorpresa. Il fatto che molte persone comunque vedranno sia la mia performance che come sono io, questa cosa mi emoziona molto. Spero di fare bene. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei la prova che niente è impossibile. Tu sei la prova che puoi arrivare dove vuoi arrivare. Grazie. Se volete vedere altri video, qua sulla mia destra ci sono altri tantissimi contenuti, io mi iscriverei pure.